Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo da poco celebrato l'Assunzione in Cielo della Madre di Gesù. Questo mistero illumina il compimento della grazia che ha plasmato il destino di Maria e illumina anche la nostra destinazione. La nostra destinazione è il Cielo. Con questa immagine della Vergine Assunta in Cielo vorrei concludere il ciclo delle Catechesi sulla Vecchiaia. In Occidente la contempliamo elevata verso l'alto, avvolta di luce gloriosa. In Oriente è raffigurata distessa, dormente, circondata dalle Apostoli in preghiera, mentre il Signore risorto la porta tra le mani come una bambina. La teologia ha sempre riflettuto sul rapporto di questa singolare Assunzione con la morte, che il dogma non definisce. Penso che sarebbe ancora più importante esplicitare il rapporto di questo mistero con la resurrezione del Figlio, che apre la via della generazione alla vita per tutti noi. Nell'atto divino del riconiugimento di Maria con Cristo risorto, non è semplicemente trascesa la normale corruzione corporale della morte umana. Non solo questo. È anticipata l'assunzione corporale della vita di Dio. Viene infatti anticipato il destino della resurrezione che ci riguarda, perché, secondo la fede cristiana, il risorto è primogenito di molti fratelli e sorelle. Il Signore risorto è quello che è andato in prima, che è risorto in prima, in primo posto. Poi andremo noi. Ma questo è il nostro destino, risorgere. Potremmo dire, secondo la parola di Gesù a Nicodemo, che è un po' come una seconda nascita. Se la prima è stata una nascita sulla terra, questa seconda è la nascita al cielo. Non a caso l'Apostolo Paolo, nel testo che è stato letto all'inizio, parla delle dolie del parto. Come appena usciti dal seno di nostra madre, siamo sempre noi, lo stesso essere umano che era nel grembo. Così, dopo la morte, nasciamo al cielo, allo spazio di Dio. E siamo ancora noi che abbiamo camminato su questa terra. Analogamente a quanto è accaduto a Gesù. Il risorto è semplice Gesù. Non perde la sua umanità, il suo vissuto e neppure la sua corporietà. No, rimangono con Lui, perché senza di essa non sarebbe più Lui, non sarebbe Gesù. Cioè, con la sua umanità, con il suo vissuto. Ce lo dice l'esperienza dei discepoli ai quali è appare i 40 giorni dopo la Resurrezione. Il Signore mostra le ferite che hanno sicilato il suo sacrificio, ma non sono più le brutture dell'avvilimento dolorosamente patito. Ormai sono la prova indebile del suo amore fedele sino alla fine. Gesù risorto con il suo corpo vive nell'intimità tenitaria di Dio e in essa non perde la memoria, non abbandona la propria storia, non scioglie le relazioni in cui è vissuto sulla terra. Ai Suoi amici ha promesso, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto. Lui si è andato per prepararci posto a tutti noi, eh? Quando sarò andato e avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove io sono siete anche voi. E Lui verrà. Non solo verrà alla fine per tutti, verrà ogni volta per ognuno di noi. Verrà a cercarci per portare da Lui. In questo senso la morte è un po' il passo all'incontro con Gesù, che mi sta aspettando per portarmi da Lui. Il risorto vive nel mondo di Dio, dove c'è un posto per tutti, dove si forma una nuova terra e si va costruendo la città celeste, abitazione definitiva dell'uomo. Noi non possiamo immaginare questa trafigurazione della nostra corporità normale, ma siamo certi che essa manterrà irriconoscibile i nostri volti e ci consentirà di rimanere umani nel cielo di Dio. Ci consentirà di partecipare con sublime emozione all'infinita e felice suberanza dell'Alto Creatore di Dio, di cui vivremo in prima persona tutte le interminabili avventure. Gesù, quando parla del Regno di Dio, lo descrive come un pranzo di nozze, cioè come una festa. Ci aspetta una festa. Una festa con gli amici. Il lavoro che rende perfetta la casa è la sorpresa che rende il raccolto più ricco della semina. Prendere sul serio le parole evangeliche sul Regno abilita la nostra sensibilità a godere dell'amore operoso e creativo di Dio e ci mette in sintonia con la destinazione inaudita della vita che seminiamo. E nella nostra vecchiaia, care e cari coetanei, ne parlo ai vecchi e alle vecchiette, nella nostra vecchiaia l'importanza di tanti dettagli di cui è fatta la vita, una carezza, un sorriso, un gesto, un lavoro apprezzato, una sorpresa inaspettata, un'allegria ospitale, un legame fedele, si rende più acuta. L'essenziale della vita che, in prossimità del nostro concedo teniamo più caro, ci appare definitivamente chiaro. Ecco, questa sapienza della vecchiaia è il luogo della nostra gestazione, che illumina la vita dei bambini, dei giovani, degli adulti e dell'intera comunità. I vecchi dovremmo essere questo, luce per gli altri. L'intera nostra vita appare come un seme che dovrà essere sotterrato perché nasca il suo fiore e il suo frutto. Nascerà insieme con tutto il resto del mondo, non senza dolore, non senza dolore, ma nascerà. E la vita del corpo risorto sarà centro di mille volte più viva di come l'abbiamo assaggiata su questa terra. Cari fratelli e sorelle, il Signore risorto, non a caso, mentre aspetta gli apostoli in riva del lago, arrostisce del pesce e poi lo offre loro. Questo gesto di amore premuroso ci fa intuire che cosa ci aspetta mentre passiamo all'altra riva. Sì, cari fratelli e sorelle, specialmente voi, anziani, il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Ma siamo vecchi, cosa dobbiamo vedere in più? Il meglio. Perché il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Speriamo, speriamo questa pienezza di vita che ci aspetta a tutti quando il Signore ci chiami. La Madre del Signore e Madre nostra che ci ha preceduti in Paradiso ci restituisca la trepidazione della testa. Perché non è una testa anestetizzata, non è una testa annoiata, no, è una testa con trepidazione, è una testa quando verrà il mio Signore, quando potrò andare là. Un po' di paura, perché questo passaggio non so cosa significa, e passare quella porta ti ha un po' di paura, ma c'è sempre la mano del Signore che ti porta avanti. È passata la porta, c'è la festa. Siamo attenti, voi, cari vecchie, cari vecchiette, coetanei, siamo attenti, Lui ci sta aspettando. Soltanto un passaggio e poi la festa. Grazie.